Una situazione da vera emergenza. È quello che sta vivendo il pronto soccorso di Crema, preso letteralmente d'assalto da un'eccedenza di richieste. In questo periodo di festività il numero di accessi è cresciuto in maniera esponenziale. Da una media giornaliera di 170-180 richieste, si è arrivati a 220-230, quasi un 30% in più. Numeri eccessivi per un ospedale che può contenere ad egenza ordinaria circa 400 posti letto. Adesso l'ospedale di Crema è circa una settimana che è full proprio, cioè se uno dovesse prenotare come se fosse in un albergo non troverebbe posto. Sicuramente ci sono delle situazioni abbastanza allarmanti. L'altro giorno in pronto soccorso c'erano 78 persone in attesa, che sono numeri assolutamente abnormi. Se si pensa ad una struttura come l'ospedale di Crema è al bacino di utenza di circa 166.000 pazienti che fanno riferimento al nostro ospedale. A Milano non li guarda, non ha valori così in proporzioni alti. Diverse le ragioni che spingono le persone a rivolgersi al pronto soccorso a rischio collasso. Innanzitutto il periodo che stiamo vivendo con sbalzi di temperatura che ha portato alle prime virosi respiratorie pre-influenzali. Non siamo ancora al picco dell'influenza, ma i sintomi come febbre, mal di gola, intasamento nasale e malessere generico ci sono tutti. Infine il periodo festivo con la chiusura di molti studi dei medici di base non ha aiutato e la gente si è riversata al pronto soccorso. Adesso io non conosco quali sono i programmi di ferie dei miei colleghi di medicina generale. Sicuramente quei pochi che ho contattato in questo periodo mi hanno riferito che anche loro hanno gli ambulatori intasati. Quindi è proprio un problema legato alla prevalenza di una patologia di tipo infettivo, ma attenzione soprattutto dalle alte vie respiratorie, quindi i raffreddori, i laringiti, tracheiti. L'appello è quindi di rivolgersi prima che al pronto soccorso al medico di base o al pediatra, solo se i sintomi persistono per almeno due o tre giorni. Non lasciarsi intimorire dalla febbre. La febbre infatti è uno dei principali meccanismi di difesa dell'organismo, che ci dice quello che non va. Nella maggior parte dei casi attualmente le infezioni sono di natura virale e la febbre sopra i 38 brucia i virus. Quindi abbassarla o abbassarla troppo in anticipo significa giocare a favore dei virus, non giocare a favore del paziente.